In un labirinto del castello di Buda, che si trova 15 metri sotto terra, formata da sorgenti termali più di mezzo milione di anni fa. Ci sono 11 chilometri di tunnel, è visitabile solo il primo chilometro. Fungeva da rifugio per i cacciatori, i contadini circa 10.000 anni dopo Cristo. Fungeva da rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è una leggenda che qui, il re Mattias, fece prigioniero o conte Dracula. E che per 10 anni ha cercato la velocità, poverino. Mentre esploriamo il tunnel, sentiamo urle e canzoni. Tra i personaggi spaventosi, incontriamo i rappresentanti delle corti ungera. Una scoperta interessante. In alcuni punti del tunnel è necessario utilizzare una toscia. C'è pure la nebbia dentro. Sapevi che in questo tunnel era una prigione sotterranea? Sucedevano torture nell'epoca medievale. Oseresti visitare? Dopo questa terribile visita, merito un riposo da regina.